Turno di riposo per recuperare un po' di energie? Sì, facciamo questa settimana qui senza giocare, però ci stiamo impegnando a lavorare per cercare di arrivare alla partita col Siracusa la settimana prossima, per cercare di fare tre punti che per noi sarebbero oro. Tre punti importanti, come dicevi tu, contro una delle squadre più in forma? Sì, loro stanno benissimo, soltanto che noi non possiamo steccare questa partita qui, nel senso che noi ci servono questi tre punti come il pane per andare poi un'altra volta ad affrontare un'altra squadra che è prima in classifica come Catanzaro. Effettivamente si deve a solo più due dalla zona calda della classifica, una classifica un po' bugiarda per i vostri valori? Sicuramente vista da dentro questa classifica qui, visto il gruppo che abbiamo, è una classifica bugiarda, però io parto dal presupposto che sicuramente ogni squadra ha la classifica che merita, nel senso che bene o male purtroppo abbiamo fatto anche degli errori in precedenza, stanno sfruttando le partite che erano più favore per noi in casa, come Scafatesi, Melfi e altre partite che per noi erano fondamentali vincere, quindi dobbiamo cercare di tirarci il più presto possibile fuori dalla zona calda. In questi mesi come sei cambiato, come ti sei evoluto, come ti senti adesso come portiere? Non ti posso dire assolutamente nulla, nel senso che vorrei vedere la fine di questo campionato qui per far sì di avere anche una crescita abbastanza importante e personale, visto che è comunque un campionato molto difficile, un campionato che dobbiamo lottare sempre col coltello tra i denti per raggiungere una salvezza importante. Quindi personalmente per me secondo me è fondamentale che io giochi soprattutto, perché questa è la cosa principale soprattutto per un giovane, la cosa principale è giocare. Mancano poche gare, quanti punti potete fare? Ma io non lo so, io parto sempre dall'idea che noi dobbiamo giocare gara per gara e cercare di prendere più punti possibili e chiaramente cercare di vincere più possibili da qui alla fine. Però dobbiamo pensare gara per gara e non possiamo pensare più avanti.